Per me non hai mai pensato questo quando hai fatto un film? No! Non è giocato per me, è proprio giocato! Tutti i produttori non vogliono più fare un film con me, perché avevano paura. al tribunale ha fatto venire un attore dice vivo io sto parlando con il cuore perché fai così è la verda